Una fondazione che mette a disposizione semplicemente il coordinamento della ricerca e diventa il portafoglio dei fondi per la ricerca è una cosa della quale il territorio non ha bisogno. Parlare di polo-oncologico ha un altro significato. Polo-oncologico significa mettere in rete, come dice la stessa Regione Campania, tutte le strutture, i servizi che si occupano di oncologia, costruire i percorsi per i patienti e mettersi in rete con quelli che fanno ricerche in Regione Campania. Noi abbiamo in Regione Campania il Pasquale, abbiamo un istituto di ricerca che è il Change e abbiamo un altro istituto di ricerca da Avellino rispetto ai quali bisognerebbe solo fare rete e insieme chiedere di utilizzare i fondi europei per la ricerca senza far intervenire personaggi dubbi che provengono dall'Umbria, che provengono dai fondi bancari rispetto ai quali non solo non ci sta nessun curriculum ma ci stanno soltanto grosse fondi di preoccupazione.